SMAU Marche ad Ascoli Piceno l'innovazione dialoga con transizione ecologica, digitalizzazione e benessere aziendale. Emergenza migranti, il sindaco di Pesaro dal palco del Caterraduno, la disperazione più forte di qualsiasi propaganda. Sabato prossimo l'attesissimo concerto di Tiziano Ferro allo stadio del Conero di Ancona, la città si mobilita per garantire sicurezza e divertimento. Inaugurata Logos Infinito Volume 2, cura di Marziani, spazio all'arte contemporanea al Museo di Villa Coloredo Mels. Buonasera e bentrovati alla nostra seconda edizione di All News, il telegiornale di TVRS. Avete sentito i titoli, ma c'è la cronaca in apertura. A Fermo sono state denunciate diverse persone per gravi reati, tra cui lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di strumenti atti all'offesa e danneggiamento aggravato. Nella notte i carabinieri sono intervenuti a Lido Trearchi, a seguito di una lite che ha coinvolto un 22enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, un trentenne albanese e un terzo individuo non meglio identificato. Nel corso della perquisizione l'albanese è stato trovato in possesso di un coltello. Ora parliamo di transizione ecologica, digitalizzazione e benessere aziendale al centro dell'evento Smau Marche che si è tenuto ad Ascoli Piceno. Realizzato in collaborazione con Regione Marche, Atim, Agenzia per il Turismo e l'internazionalizzazione delle Marche e Camera di Commercio delle Marche, l'evento è stato un momento particolarmente importante. Sentiamo le interviste realizzate per noi dove sul posto c'era Mario Larocca. Le imprese incontrano le start-up, gli ingredienti ci sono tutti per un futuro migliore. È proprio così. Come Smau abbiamo il compito da 60 anni di raccontare l'innovazione, raccontare il futuro che verrà. Oggi questo futuro a livello mondiale, dalla Apple, Google, tutti i grandi operatori hanno questo binomio. Quindi imprese che hanno problemi, temi, sfide da vincere e anche organizzazioni pubbliche e dall'altra parte start-up innovative che hanno le soluzioni più vincende. Insieme da questa collaborazione nasce il nostro futuro. L'obiettivo di Smau qui in Regione Marche, ad Ascoli Piceno, è darvi un flash, un racconto per capire la direzione in cui stiamo andando. Ci è venuta l'idea di avere un oggetto che rileva con una certa frequenza temperatura, luminosità, irraggiamento solare e caratteristiche quindi del decreto 81 e indirittura e manda queste informazioni alla persona presente e ad una nostra piattaforma. Considerate che questo oggetto è stato sviluppato per Ferrovie dello Stato che ha più di 20.000 soggetti che sono i smart working. Quindi un progetto che è nato dalla carta e penna di noi due e che è stato commercializzato perché è nel mercato. Per le start-up avere il supporto dalle istituzioni dà un incentivo, non solo un supporto economico ma un incentivo ulteriore perché vuol dire che c'è interesse a uno sviluppo a livello nazionale che ti porta anche a un livello internazionale di sviluppo. Come la Regione Marche è stata vicina a queste start-up? Allora la Regione Marche sostiene le start-up innovative attraverso diversi strumenti. Allora innanzitutto le stiamo portando in tutta Europa e in tutto il mondo a far incontrare imprese, aziende, players internazionali. Poi abbiamo dei bandi specifici, bandi proprio per le start-up che verranno aperti entro la fine dell'anno. Sono circa 10 milioni a favore delle start-up innovative sia per l'avviamento delle start-up che per il consolidamento delle stesse. Poi all'interno anche di altri bandi ci sono delle premialità per quelle aziende che utilizzeranno collaborazioni con le start-up. Veniamo da uno SMAO San Francisco, proprio prima di Ascoli Piceno e devo dire che ci hanno riconosciuto all'Italia una qualità nell'innovazione formidabile. Io lo vedo un po' come nel turismo, spesso si conosce magari Venezia, Firenze ma non sanno che l'Italia è tutta turistica e Ascoli Piceno forse ne è un esempio formidabile. Vale lo stesso anche per l'innovazione, nessuno sa che l'Italia è il primo motore in Europa in termini di innovazione. La disperazione è più forte di qualsiasi propaganda. Servono flussi più larghi e legali per garantire a tutti il diritto alla felicità. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in occasione dell'incontro Naufraghi Senza Volto organizzato nell'ambito del Caterraduno 2023. Sentiamo. Occorre gestire l'emergenza migranti con la testa, non con la pancia, con flussi più larghi e legali salvando le persone e dando loro la possibilità di concretizzare il diritto alla ricerca della felicità. Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante l'incontro sul soccorso umanitario organizzato nell'ambito del Caterraduno 2023 sul palco del teatro sperimentale. La disperazione è più forte di qualsiasi propaganda, quella migratoria è un'emergenza che si contrasta con pragmatismo e razionalità. Su questi temi si perdono, si guadagnano voti, ma dire che chi scappa dal proprio paese se l'è cercata significa che dal punto di vista valoriale non riconosce il diritto alla ricerca della felicità per tutti. Lo stesso, dice Ricci, raccontando la storia dei nonni emigrati in Belgio di chi tanti anni fa è partito dall'Italia per garantire un futuro migliore e alla propria famiglia. Infine sulle ONG, che senso ha farle sbarcare a centinaia di chilometri di distanza dai porti più vicini alle coste da dove sono partiti, si quintuplicano i costi e si aumenta il già precario stato psicofisico delle persone. Questo tipo di politica è sbagliata e non funziona dal punto di vista valoriale. La dirigente generale ingegner Cristina D'Angelo è stata incaricata quale nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Marche in sostituzione di Antonio Lamalfa per raggiunti limiti di età. Cristina D'Angelo assume l'incarico da oggi, primo luglio, lo vedete, questa mattina è stata accolta in prefettura ad Ancona da Darko Pellos, poi si è recata in comune sempre ad Ancona dove è stata ricevuta dal sindaco Daniele Silvetti. Conto alla rovescia per il grande concerto di Tiziano Ferro, sabato prossimo 8 luglio ad Ancona, imponente la macchina organizzativa e quella dei soccorsi. Ci dice tutto nel prossimo servizio Claudio Comirato. Ancona si prepara al concerto di Tiziano Ferro in programma sabato prossimo, un evento atteso da tre anni e ovviamente c'è una certa preoccupazione per quello che riguarda la viabilità. Siamo qui al parcheggio dello stadio del Conero e a proposito di parcheggio dello stadio del Conero vi ricordiamo che sarà proibito parcheggiare in questa zona, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, per i tir che ovviamente fanno parte dell'entourage di Tiziano Ferro per quello che riguarda tutto il materiale che verrà allestito sul palco ma sarà un parcheggio riservato ai motocicli in genere, ai mezzi, ai due ruote e ai disabili. La capienza è 27 mila posti e noi metteremo in campo nove ambulanze di cui quattro da soccorso avanzato con tre medici e una decina di infermieri. In più metteremo una tenda pneumatica dove verrà allestito un PMA, un punto medico avanzato per i casi più gravi e in caso di ospedalizzazione un medico si sgancerà e andrà su un'ambulanza ALS dove verrà messo anche un infermiere. Oltre a questo ci saranno sul campo squadre a piedi con la presenza di oltre 40 soccorritori. Per quello che riguarda il piano della sicurezza oltre diciamo all'assistenza sanitaria c'è la questione che tutto questo ovviamente comporta un prefiltraggio per quello che riguarda eventuali malori al pronto soccorso di Torrete. Il primo soccorso viene fatto sul posto dalla squadra presente e in caso di necessità verrà portato nel PMA onde evitare la diretta ospedalizzazione e intasare il pronto soccorso. Alle nostre spalle ci sarà il palco di Tiziano Ferro. Questa mattina praticamente è l'overtour per quello che riguarda l'inizio dei lavori con le misurazioni. Sì, stamattina posizioneremo la pedana dove sorgerà poi il palco con le varie strutture esterne. Poi dopo inizieranno i lavori domani, penso, inizieranno a montare la struttura e poi ritorneremo la prossima settimana per montare, per piazzare invece il palco vero e proprio. E adesso andiamo a Recanati dove ieri nel pomeriggio è stata inaugurata la mostra Logos Infinito volume 2 dedicata all'arte contemporanea. Secondo capitolo per il progetto diffuso Logos Infinito a cura di Gianluca Marziani inaugurato al Museo Civico di Recanati Villa Colloredo Mels. Un progetto che mira a promuovere e sostenere l'arte contemporanea dove è possibile ammirare opere di artisti che utilizzano linguaggi moderni accanto alle sale che ospitano i capolavori di Lorenzo Lotto, una commissione di generi che intende offrire ai visitatori una riflessione sulle arti visive. Nel primo capitolo di Logos Infinito inaugurato nel dicembre scorso erano sei gli artisti selezionati da Marziani per la realizzazione dei vari interventi, tre invece quelli che entrano in questo secondo momento. Roberto Giacomucci, Giulio Marchetti e Mario Ricci. Sì l'idea è stata fin dal capitolo 1 di distribuire lungo alcuni spazi del centro storico di Recanati interventi di artisti visivi con un ragionamento alla base di tutto, quello di pensare questo progetto dove il titolo poi spiega bene quella che è l'idea alla base di tutto, ovvero utilizzare il linguaggio, per cui la parola, la frase, tutto ciò che è scrittura in termini visivi, termini visivi quindi attraverso la pittura, la fotografia, la scultura, il video, il progetto musicale, sonoro, l'installazione, diciamo lo scibile dei linguaggi al presente tentando una serie di dialoghi a distanza, possibilmente non di da scalici, con diversi contenuti, ogni artista ha scelto i suoi contenuti diciamo dominanti leopardiani e di ragionare su questi contenuti attraverso l'opera. E sempre restando nella città di Leopardi, Quinto Rigo e Castaldo, PFM e Dardast sono i protagonisti delle notti di Lunaria, in programma il 14 luglio sull'orto del Colle dell'Infinito, il 24 e il 29 luglio in Piazza Leopardi. Parliamo della popolare amata rassegna musicale estiva, sostenuta dal Comune, ideata e artisticamente curata da Musicultura. Prezzi popolari per assistere allo spettacolo di Quinto Rigo e Gino Castaldo sul Colle dell'Infinito e quelli per il concerto della PFM in Piazza Leopardi, rispettivamente 10 e 20 euro, mentre l'ingresso allo show di Dardast sarà libero. Come ogni sabato spazio alla nostra rubrica dedicata al benessere curata da Manuela Cermignani. Lo scorso 10 giugno Anfas Grotta Mare ha inaugurato un nuovo laboratorio di ceramica, prodotto della volontà e dell'unione e la coesione di tutta la fondazione, affinché la profusione di amore e dedizione a questo tipo di professione possa non solo permettere l'inclusività sociale alle fasce più deboli, ma determinare inevitabilmente un cambiamento vero e proprio. Ormai da 30 anni che sono un medico di medicina generale e lavoro in un ambiente molto bello, i pazienti cominci a conoscerli da quando crescono, dai sei anni in su fino a che non mogliono. Quindi la mia emozione è che in questi 30 anni ho accompagnato tante persone, le ho viste crescere, le ho viste ammalarsi, ho visto anche morire delle persone care con malattie incurabili. Fare il medico di medicina generale qui da noi, qui diciamo un po' anche in tutta Italia, è cambiato un po' dopo il Covid, in quanto il nostro rapporto con questi pazienti che non sono pazienti ma sono diventati familiari è cambiata totalmente. La chiusura del Covid ha portato all'inasprimento delle persone nei confronti, hanno mancanza quasi di fiducia, si sono richiusi in se stessi e hanno paura di tutto. Per un semplice raffreddore e per due linee di febbre già ti chiamano per dire oddio c'ho la febbre che può essere e questo è tutto scatenato diciamo dalla paura del Covid. Come dovrebbe essere il rapporto fra paziente e medico di base, visto che le cose sono cambiate e c'è anche una regolamentazione, una burocrazia molto più sofisticata rispetto a prima? Purtroppo la burocrazia ci sta rovinando in questo momento, non solo dovuto al Covid ma anche alla burocrazia. Si passa un po' troppo davanti al computer e un po' meno davanti al paziente. Io sono un medico vecchio stampo ancora, quindi preferisco parlare, visitare e poi scrivere al computer. Quindi preferisco più l'approccio umano e capire quello che ha la persona davanti, se è un vero problema fisico di malattia oppure solo un problema psicologico. Comunque per come è messa adesso la medicina è un po' difficile fare. Il medico come ai vecchi tempi, impostare un rapporto diciamo di ascolto che ci è stato sempre insegnato, soprattutto di accoglienza e di ascolto, perché già con l'ascolto riesci a definire quali sono i veri problemi della persona che è di fronte. Paradossalmente dopo il Covid è cambiato completamente. Il risultato, un ultimo consiglio? Un ultimo consiglio, affidatevi ancora al medico, non guardate il dottor Google, affidatevi a noi come l'avete sempre fatto prima, perché noi vogliamo siamo solo il bene vostro, il bene dei pazienti, siamo i vostri medici di famiglia, siamo diventati proprio come i vostri confessori, come una persona di famiglia proprio. Vi considero io e come vi considerano anche un gruppo di nostri amici, quello dei colleghi di San Benedetto. Dopo avervi fatto ascoltare nell'edizione delle 13 e 15 le parole dell'artista ucraina che ha realizzato il palio e che si è ispirata alla Madonna di Poggio di Bretta di Carlo Crivelli, torniamo a parlare della Quintana che si correrà ad Ascoli Piceno in notturna sabato prossimo 8 luglio in onore della Madonna della Pace. Il servizio è di Cristiano Pietro Paolo. Svelato il palio della Quintana di Luglio in onore della Madonna della Pace, che si terrà sabato prossimo 8 luglio. L'opera è stata realizzata dall'artista ucraina Olena Panasyuk, da poco tempo residente ad Ascoli. C'è soddisfazione per quella che sarà la giostra della vera ripartenza dopo il periodo Covid. Ascoli lancia un messaggio di pace, questa Quintana in onore della Madonna della Pace. L'artista che la Commissione ha scelto tra i 12 bozzetti presentati è un'artista ucraina. Il messaggio più importante è che l'interprete di Olena è una ragazza russa. Questo è un grande messaggio etico. La Quintana soprattutto manifesta sempre valori di pace, valori etici importanti e sono molto contento perché oggi dalla Sala della Vittoria è uscito un grande messaggio di pace e di fratellanza. Questo è bellissimo, tra l'altro un palio stupendo con un messaggio forte anche di fede e di spiritualità. Con la Madonna di il poggio i Bretta del Crivelli dipinta da Olena in questo palio è un forte messaggio di spiritualità, di fede come dicevo. Quindi sono molto contento e anche molto emozionato perché la Quintana di Ascoli è diventata la Quintana più importante d'Italia. Questo ovviamente ci dà una grande responsabilità di lavorare e continuare a lavorare in modo capillare e soprattutto ci responsabilizza per dare sempre un messaggio sì di competizione ma un messaggio di fratellanza e di amicizia. Presentato il nuovo palio che è molto bello e ripartono anche le gare sbandiatori in questo fine settimana. Sì, oggi è l'apertura ufficiale del periodo Quintanaro, anche se la scorsa settimana proprio in questa piazza abbiamo ospitato oltre 600 ragazzini provenienti da tutta Italia per i campionati. Un palio, come si diceva, meraviglioso, un palio dove la cura del dettaglio è veramente molto alta e che si ha di buon auspicio per una Quintana vincente che negli ultimi giorni ha avuto difficoltà ma che comunque si è stretta come una grande squadra. L'amministrazione, il consiglio degli anziani e i sestieri davvero hanno fatto quadrato. Si è lavorato e si sta continuando a lavorare notte e giorno sulla pista e quindi siamo coscienti di fare e aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità. Ed ora spazio allo sport, sigla. In apertura il basket con la carpegna prosciutto Pesaro che comunica con soddisfazione che Leonardo Totè anche nella stagione 2023-2024 farà parte del roster che affronterà il campionato di Serie A per il centro, classe 1997, originario di Verona, sarà la terza annata con la maglia bianco-rossa sulla base del contratto biennale sottoscritto nell'estate 2022. E sempre per il basket, anche se scendiamo di alcune categorie, Adam Katakovic torna a vestire la casacca giallo-blu, la Sutor Basket Monte Granaro e lieta di comunicare il ritorno in casa dell'ala pivot di 202 centimetri, 204 centimetri, classe 1996. Ora invece spazio al calcio giovanile all'indomani della gara tra i giovanissimi della Biagio Nazaro e dell'Accademy Civitanovese. Si chiude la 26esima edizione del Trofeo Marche sotto un acquazzone impressionante che ha condizionato sicuramente la premiazione ma non certo il torneo. No, assolutamente no. Il torneo quest'anno è stata veramente un'edizione record. Già in presentazione avevamo tutti i presupposti perché avevamo avuto una grandissima richiesta e 32 iscrizioni sono veramente motivo d'orgoglio. Poi le fasi finali più a Macerata sono state seguitissime e è stata veramente un'annata molto positiva e eccezionale. Vole femminile in chiusura Alice De Gradi è di nuovo tra le migliori dell'Italia che batte la Croazia a Bangkok e si qualifica alle finali della Volley Nations League con una giornata di anticipo. La schiacciatrice della Megabox ha messo a segno 13 punti con due es confermando il suo eccellente momento di forma. Siamo in chiusura ma c'è tempo per vedere insieme alcuni appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per domani, domenica 2 luglio. Leggiamoli insieme ad Ancona e abbiamo voluto segnalarvi i festival che sono in questo momento in programma nella nostra regione. La punta della lingua ad Ancona è il Festival internazionale di poesia, il Festival del Reportage ad Ascoli Piceno, Museo dell'Arte Ceramica, il Caterraduno a Pesaro tra Baia, Flaminia e Piazza del Popolo, Corinaldo Fotos 2023, il Festival sulla Critica Fotografica, a Monterinaldo, provincia di Fermo, all'area ecologica La Cuma, la seconda edizione di Artemide Festival Donne in Canto, e poi il premio Massimo Urbani, premio internazionale di jazz contemporanea a Camerino con domani sera la finalissima della 27esima edizione. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con l'informazione, per restare sempre aggiornati con noi ricordatevi di consultare i nostri siti, il nostro portale è www.utvrs.it, vedete qui l'home page con le notizie di cronaca dalle cinque province delle Marche e molto altro ancora, e poi per conoscere la nostra programmazione, rivedere in onda programmi e il nostro telegiornale, ecco tvrs.it. È davvero tutto per questa edizione, io vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo per domani, vi auguro un buon proseguimento di serata. Ben trovato in aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, possiamo notare come l'anticiclone da ovest dall'oceano e dalla Spagna cercherà di raggiungere l'Italia, ma saremo sempre un po' disturbati da infiltrazioni di aria umida oceanica da ovest, contemporanei anche durante la nuova settimana, al centro nord verso la serata. Andiamo al dettaglio quindi, una giornata di domenica di bel tempo, con ampie aperture del cielo sulle zone pianeggianti e di mare, di nuovo però in serata, temporali sono attesi sul nord-est e lungo l'Appennino. Ecco in sintesi la mappa più chiara per vedere quello che succede la domenica, dicevamo bel tempo e clima estivo, massime tra i 27 e i 31 gradi, in serata temporali locali sulle Alpi, localmente anche la pianura veneta e friulana e poi l'Appennino ed il Messinese. Tutti dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo.